Episodi di arbitrato, carte e varcasi di Dallara Challenge, diretto da Orsato la Roma ritorna sul campo Serie A. Oggi davanti alla Bologna di Cia Giumotta in una partita chiave per cercare credere nella corsa dei campioni. La sfida sarà arbitrata da Daniele Orsato con Meli e Alassio come assistenti. Avar Mazzoleni con Di Martino Avar. L'uomo 4 è Volpi. Arbitro Orsato.assistance Melilassio.4 Manvolpi.Varmazzoleni.Avar Di Martino 7 proteste dei giocatori di Giallorossi per un contatto nell'area di Sosa che si allarga il braccio e colpisce sul bacchel. Accetto a Orsato, tutto è regolare. Il contrasto non è sufficiente per decretare il calcio di rigore. 38 Orsolini spinge Ibanez appena fuori dall'area di rigore di Giallorossi. L'arbitro lo consente di funzionare. 42 Il primo cartellino giallo è per Bonifazi. Il difensore ferma in modo sporco Viginaldum che si era liberato con un'abilità e non gli permette di entrare nella zona. 46-39 Richiamo verbale di Orsato in Murigno. 70 Lico Giannis atterra Ibanez nell'area di rigore. Situazione di limiti, ma Orsato lo permette. 80 Il sangue è avvertito. Il suo intervento non trova invece la palla e colpisce Zaleschi. 90 Primo avvertimento per Roma.Yellow Card per Camara che arriva in ritardo su Lico Giannis.